Contro il Piacenza, dopo una prima mezz'ora da brividi, i Viola giocano alla grande, rimontando l'iniziale svantaggio. Il contropiede del Piacenza è infatti nicidiale e Patrascu non perdona. Poco dopo Manfredini potrebbe pareggiare, ma la rimonta dei padroni di casa arriva sul finire del primo tempo. Graffieri-Crossa, Riganò fa il resto. Nei primi istanti della ripresa la squadra di Cavasin subisce l'offensiva degli avversari, ma poi è proprio la Fiorentina con Riganò e Graffieri, i migliori in campo, ad essere più pericolosa. Il Piacenza rimane in dieci per l'espulsione di Cristante ed affonda. L'assedio alla porta di Guardalbenne è costante, a Graffieri manca solo la gioia del gol. Una manciata di minuti e di Livio crossa per Riganò, su alla rete della vittoria. Quarto sigillo della stagione per la Fiorentina, una boccata d'ossigeno assolutamente necessaria per tutto l'ambiente.